Mi morì Aragorn Dove andiamo? Oh aspetta No 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 Arwen cosa? Ah sbloccato si c'è Aspetta abbiamo tutta la compagnia Ok in ordine Boromir Che figo C'ha anche lo scudo Cosa c'hai Aspetta Ho preso Legolas il morto Oddio ho ucciso Boromir Una sfrecciata Boromir tu non meriti di vivere Capisci? C'è prima che l'urz Lo faccia Io lo sto mancando sono Legolas e a un metro Non riesco a beccare un grassone Ok Gandalf No mancato Mancato di nuovo Stupido tuc Ok poi chi ci sono Gimli Oddio guarda Distruggo il terreno Guarda eh Ok ho fatto un buco Guarda la compagnia si sblocca tutto praticamente Un ternecone è morto Smetti No sono Gimli Faccio qualche po' Stregone idiota Uno stregone Non sa notare cosa Hai visto? Dove sei? Ehm Chi era qua? Ah ecco E' una cosa che ti piacerà tanto Del tutto difficile Del tutto difficile No aspetta Io Io Che ti stanno seguendo? Io voglio Aspetta aspetta è giusto è giusto Adesso arrivo Arrivo con baromir No No Corno di gondor Bellissimo Posso picchiare? Si Posso picchiare? Legolas preparati Ti suono E' bellissimo basta Maromirlo userò sempre col corno Mi arrivano gli orchetti e gli faccio Così si allontanerà Dai, dobbiamo andare a volante fatto No, perché? Su quale legoland Arrivo Quindi in quell'acqua si è nega Io passo dal punto Se non potessi Cioè, passando dal punto non torni indietro Dove eravamo prima Andiamo Aragorn, figlio di idiota Andiamo Guarda, hai visto? Ce la puoi fare, voglio usare Gandalf No, no, non tornare indietro, Gandhi You shall not pass Ehi Facciamo l'ultimo livello insieme Questo giorno Che dispiace Meglio sbrigarci Meglio sbrigarci Sto prendendo dei soldi Oh Ah, cosa sto facendo? Uno stregone non è mai in ritardo Continuiamo a fare la terra di mezzo Gandalf, il vecchietto sfamato Oddio, in due metri È diventato tutto neve È nevica, bellissimo Ah, ok Questo è l'ultimo livello Che faremo insieme Ma O sarò da solo O ci sarà un tizio idiota Però Lo vedrete soltanto vivendo Oppure ci sarò anch'io Mi ricordo Oltimente no non tra Sarmen e Boromir chi è che vince tra tic nervosi oh mio dio no aspetta perchè sta succedendo questo ok forza andiamo primi B per sollevare un personaggio piccolo ah non ci passi perchè sei troppo basso mio dio aspetta 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 rimane lì non ci credo metti per me no devi prendere dai ora ti passo Kimmy dai ti prego accetta questo mio dono tanti auguri di buon natale no bellissimo ciao Kimmy no io volevo scelta come on forza prendi i semi ah e mi guarda cornetta il da morì nel passaggio Caradhras si causiamo balai arrivo arrivo un attimo mi ricorda tanto il livello di Indiana Jones 1 dietro le montagne c c c devi prendermi e lanciarmi c c c dicevo devi prendermi ilota Kimmy lo spacca osso legolas che prendermi il Kimmy non dirlo all'elfo sono l'elfo scusa lassù in alto Dolore Siamo la coppia perfetta Gimli e Gimli Si vede una cippa Ma perché? Tanto per Ma dai Pipino No sono anche io Basso Gimli Aspetta voglio prendere assolutamente Pipino Con Gandalf Per degli Stupido Secondo te io ti metto in un posto sano Ciao Pipino Prendi Tu prendi Gimli No Non ci credo Io sono caduto tenendo in mano Pipino Ma Pipino non è caduto Ok facciamo così Se tu vai laggiù e ti lancio Gimli Andiamo Perché mi cade? Ma dai non puoi morire Guarda Io non capisco perché Si deve dividere Lo schermo Quando ce lo otteniamo soltanto Di un attimo Adesso si però Pronto A ora Dai Vedi? Boh Cosa? No guarda Non esiste Cioè Dato che sono troppi nella ruota Strabordano Ovviamente ci mettono Gli hobbit Esattamente tanti E non gli hobbit Mary e Pipì Ah ho visto B Ho detto ma cos'è Posso Prendere gli hobbit Regolas Fermati Perché? Devo rompere questa Come on let's go Nella neve totale Vorrei trovare Babbo Natale Invegola Sì Ok Se non siamo morti Non lo facciamo più Ok Riattacchiamoci Le visuali Vai Tata 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 Abbiamo avuto un attimo La discorrenazione Musica Sei un cecchino Legolas Scatola Poglietti Basta Via Oddio Hai visto i miei cuoricini Colpiscimi Vedi È come se Eh sì Ho il doppio della vita Perché ho la maglietta di Mitri Eh 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 No Fucci Vormir è quello che impazzisce No È legolas For the next part of the story Voi 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 Voi